musica 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 che si chiama musica è un classico della musica sacra protestante scritto da john Newton nel 1600 non ricordo che altro comunque ha quasi quattro secoli però la magia della sua sonorità secondo me è ancora tra le più belle che io abbia seguito noi proponiamo questa versione io già musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.